A quanto pesa nella serie di finale vincere in casa delle campioniste d'Italia? Beh sicuramente è una vittoria che pesa tantissimo, la volevamo, l'abbiamo ottenuta e adesso pensiamo subito a domenica prossima in casa a partire bene come siamo partite oggi e metterla tutta per vincere subito lo scudetto e chiudere in due gare. Com'era il morale dopo la finale di Coppa Italia persa e che cosa è successo in questa settimana che vanno portato a vincere qua a Conversano? Allora diciamo che il morale era un po' basso, ovviamente abbiamo perso solo i rigori, nei tempi normali abbiamo sempre pareggiato. La settimana subito dopo è stata un po' difficile, però dopo la vittoria contro Cassano in semifinale ci siamo riprese, abbiamo lavorato bene, abbiamo guardato gli errori, siamo stati un po' insieme e ci siamo risollevati e oggi è il risultato della forza di squadra, del cuore, della grinta e di tutto. Domenica prossima, come dicevi tu, match point in casa davanti al vostro pubblico. Sì, domenica prossima match point, ripeto, ce la metteremo tutta, inoltre giocare in casa è sempre un valore aggiunto perché il nostro pubblico è calorosissimo, è sempre l'ottavo uomo in campo e ripeto, daremo il massimo per chiudere in due partite. Quando si perde una partita ci sono tante cose da ricriminare. Sicuramente abbiamo avuto grosse difficoltà in attacco, a realizzare le reti, ne abbiamo sbagliate tante nel momento decisivo. Poi si è messa anche Monica Pruster che ha parato un rigore, un contropiede, una serie di tiri dai 6 metri. Su questi palloni purtroppo si è decisa la partita a nostro sfavore. Da cosa si riparte e quanto è difficile soprattutto questa gara 2 in casa della formazione salernitana? Noi ripartiamo dalla partita di stasera, vedremo un po' gli errori fatti, su cosa dobbiamo migliorare. Sicuramente andiamo a Salerno per giocarci la partita, non c'è dubbio. È ovvio che andare a vincere fuori casa non è semplice. Da un punto di vista psicologico ovviamente le ragazze in questo momento sono un po' in crisi. Però abbiamo l'obbligo e il dovere di provarci anche perché siamo lì, anche se oggi è finita di 5. Però stiamo in partita, stiamo.